Qui siamo davvero alle porte di Arezzo, Tregozzano, un centro però bello, vivace, con tante attività commerciali che daranno vita alla sesta edizione della Notte in Bianco. Sì, esatto, è la sesta edizione della Notte in Bianco. Anche quest'anno ci ha fatto molto piacere come Confesercenti sostenere e aiutare nell'organizzazione di questa festa che ormai è diventata una tradizione per il paese. È un paese bello, pieno di attività, di iniziative vivace e che ogni anno vuole organizzare un'occasione di festa per ritrovarsi tutti insieme per conoscere Tregozzano e le sue attività commerciali. Riteniamo la sesta edizione, l'orgoglio delle attività commerciali del paese ma è rivolta al paese. Conoscere un paese che non è solo una strada ma è tutte le sue viuzze, le sue località, le sue colline e chiaro le attività del paese sono un po' la punta di diamante. Attività che devono essere supportate, evolute bene e proprio per questo facciamo questa serata che è un po' l'orgoglio del paese. È una serata dedicata quest'anno al tema dello sport perché amiamo coinvolgere la famiglia quindi dai più piccoli ai più grandi. Inizieremo il pomeriggio con attività sportive dedicate ai bambini e ai ragazzi per poi fare serata con musica e un ottimo cibo. Ogni attività farà qualcosa di veramente interessante. Dove si svolgeranno queste attività? La strada principale non verrà chiusa al traffico? No, no, è una movida un po' se mi passi il termine perché praticamente invece che essere una appunto una zona chiusa al traffico e aria pedonale, gli ospiti si potranno muovere liberamente per ogni attività. Ogni attività tra virgolette all'interno della festa organizza qualcosa. Quali saranno le attività che oltre ovviamente alla buona tavola, allo shopping si potranno fare in questa notte in bianco? Ovviamente la tavola è l'aspetto primario della giornata, però lo sport non lo dimentichiamo come centro sportivo parteciperemo con il calcio balillo mano, quindi con vari gonfiabili, ci saranno le arti marziali, il tiro la fune, il tiro col arco e la pole dance, quindi diciamo una giornata dove ci sarà un'attività sportiva a 360 gradi che potrà andare a convolgere sia il bambino piccolo che il genitore.